Ciao ragazzi, oggi saltiamo in sella su una novità del 2019 e stiamo parlando del Benelli Leoncino 500 la moto che vedete in questo video, immatricolata a gennaio e conservata da un unico proprietario ha percorso solo 600 km, ovviamente le condizioni sono pari al nuovo per chi non conoscesse il modello, 500 bicilindrico, ricco di grinta, utilizzabile con patente 2 con una grandissima ciclistica e una frenata eccezionale le recensioni infatti ne parlano molto bene, molto chiaro la sua facilità nell'utilizzo da parte dei più esperti e dei meno ovviamente la moto è dotata di ABS, fari full LED e frecce LED, quindi ultima tecnologia di casa Benelli insomma veramente un gioiello da vedere e venire a comprare se volete scoprire ulteriori informazioni su questa straordinaria moto ci trovate a Carona Pertusella in via Bensiz 800 o in alternativa su nostro sito internet Giudici Moto Giudici Moto, realizza il tuo sogno scopri la tua prossima moto nella vasta esposizione di usato, selezionato e garantito come nuovo fatti consigliare e acquista in totale sicurezza vuoi vendere la tua moto usata? richiedi una valutazione ti aspettiamo a Caronno Pertusella in via Bensiz 800 e su giudicimoto.it a Caronno Pertusella a Caronno Pertusella